Puliamo il mondo al Maccone Bianco, questa è l'iniziativa promossa da Legambiente Fichelion di Ispica che si svolge oggi domenica 30 settembre dalle 9 alle 12 a Santa Maria del Focallo presso il Maccone Bianco. Noi ne parliamo con il Vice Presidente del Circolo Legambiente Fichelion di Ispica, Anna Lì. Ciao Piero, grazie dell'invito e saluti a tutti. Legambiente ha aderito alla campagna Puliamo il mondo e non è la prima volta che il Circolo di Ispica partecipa ed è una campagna che Legambiente a livello nazionale organizza, è la versione nazionale della campagna Clean Up the World. Legambiente la organizza dal 1996 ed è il 26esimo anno quindi che si fanno le campagne di Puliamo il mondo. L'anno scorso ha avuto un grande successo, sono stati coinvolti a livello nazionale oltre 600.000 volontari, sono stati fatti pulizie in 4.000 località e hanno aderito in 1.600 comuni. Puliamo il mondo ha il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'Istruzione, dell'Unione Comuni Italiani, dell'Anci, dell'UPI, dell'Unione Provincia Italiana, della Federparchi e dell'UNEP che è il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. Noi abbiamo aderito ancora una volta e pensiamo che siano momenti di grande sensibilizzazione per la salvaguardia del nostro territorio e per i comportamenti, per avere comportamenti quanto più idonei alla bellezza e alla pulizia del territorio. Il Marconi Bianco è un'area di vincolo idrogeologico e di rimboscimento della forestale. Possiamo dire che è il nostro polmone verde? Quindi, come giustamente dicevi, Marconi Bianco è un'area sottoposta a vincolo idrogeologico la cui gestione e il rimboscimento è a cura della forestale. È un'area centrale alla fascia costiera e, come vediamo, ha salvaguardato questa grande area anche da un'azione di edificazione insieme al boschetto è una grande potenza di verde, di ricchezza vegetale ma anche di qualità ambientale perché trovare delle aree a mare, delle zone nelle fasce costiere che non siano edificate, che non siano state manomesse con l'edilizia o con altre infrastrutture, è abbastanza raro. Quindi, questo per sottolineare che la nostra fascia costiera è un'area molto complessa ma di grande valore e di grande bellezza. Ha una bellezza paesaggistica, ha una bellezza naturale, ha una bellezza legata proprio alla qualità ambientale. Infatti, sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo, quest'anno e anche negli altri anni, ma particolarmente quest'anno, è stato un luogo di deposizione dei nidi della tartaruga caretta caretta e sono andati a buon fine, anche perché sono stati seguiti, protetti da volontari che bisogna ringraziare, hanno creato delle aree di salvaguardia, hanno seguito l'iter della tartaruga. Poi, per esempio, nella fascia costiera abbiamo anche la presenza di un uccello, che è il fratino euroasiatico, che è a rischio di estinzione. Abbiamo trovato, facendo una campagna di alternanza scuola-lavoro a Santa Maria del Focallo, abbiamo trovato delle uova, quindi ne edificano nella nostra area. insieme alla vegetazione, che conserva e mantiene del boschetto e del bacone bianco, mantiene e conserva la sabbia, che è un bene preziosissimo, come sappiamo, oggetto del progetto di ripascimento, del quale, se vuoi, possiamo insieme ad altri anche parlare. E allora ti chiedo, come coniugare lo sviluppo della nostra fascia costiera con la qualità ambientale e naturalistica della nostra costa? Mi viene in aiuto il titolo della campagna di quest'anno, che è il territorio si custodisce con la cura e le relazioni di comunità. L'area di Santa Maria del Focallo, con la presenza del maccone, con la presenza del boschetto, con i problemi legati all'erosione costiera, con l'attività di ripascimento, che noi sulle quali tecniche non siamo d'accordo, è un'area, e non dobbiamo dimenticare le aree di riserva naturale dei Pantani, è un'area di grande valore e che richiede una capacità di intervento non in maniera complessiva e forte, ma in maniera puntuale, di volta in volta, individuando le diverse problematiche. Per esempio, per quanto riguarda il boschetto, noi riteniamo che il boschetto debba essere salvaguardato, non bisogna perdere un granello di sabbia e quindi evitare lo scavalcamento della sabbia sull'asfalto, perché è persa. Potenziare il verde, ridurre la sezione degli ingressi, renderli sinuosi perché l'azione del vento venga smorzata. Questo ne avvantaggia la qualità e riduce l'erosione. Un'altra cosa è controllare l'apporto delle acque, per esempio, delle acque dei corsi, perché sappiamo che il nostro territorio è ricco di canali che pervengono alla fascia costiera. Controllare la qualità di queste acque è importantissimo per salvaguardare e dare uno sviluppo alla qualità della fascia costiera. Un altro aspetto è quello legato ai rifiuti. Noi dobbiamo andare ad una raccolta differenziata sulla fascia costiera, che è quella che ci fa alzare la percentuale come città di Ispica, per cui lo sforzo sarà, secondo noi, importantissimo nei prossimi anni potenziare la raccolta differenziata sulla fascia costiera, creando anche delle aree di stoccaggio in cui si possono portare i rifiuti. Quindi le infrastrutture sono tante da fare. Dall'altra parte noi dobbiamo promuovere un'attività di valorizzazione legata ad attività private, ma che vadano a salvaguardare questi aspetti e che non creino interventi assolutamente invasivi, per esempio anche sulle spiagge con i lidi. Quindi bisogna controllare bene il piano regolatore da un lato che deve essere rivisto e quindi potrebbe essere un'occasione di riflessione, ma anche il piano spiaggia che l'amministrazione deve redigere può dare una forte impostazione. Un altro aspetto è quello legato alla riconversione urbanistica dell'area, perché probabilmente all'interno dell'area dei piani particolareggiati e già edificata si dovrebbe ripensare una ristrutturazione urbanistica che consenta alla popolazione, diciamo che periodicamente nei mesi estivi e speriamo che si possano allungare quanto più possibile, di avere la possibilità di luoghi di aggregazione, di socializzazione e anche di attività di pregio, diciamo da un punto di vista economico, ma con grande oculatezza e con grande attenzione per tutte queste caratteristiche di cui abbiamo parlato. Ringrazio Anna Lì, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica. Grazie. 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 Grazie.